un caro saluto a tutti e tutte questo video semplicemente per portare conoscenza a chi non l'ha visto che è stato rifatto il sito web www.tinelli.eu è sempre lo stesso indirizzo scorrendo vedete meglio la barra in alto la home l'indice alfabetico il prezioso indice alfabetico primo canale youtube secondo canale youtube terzo canale youtube brighton 1 brighton 2 brighton 3 radio sprecher max zen e il tasto solo per lo staff serve la password ovviamente spero vi piaccia ogni tanto è utile cambiare come lo scrivo lo dico qui su di me cambiare spesso le proprie attività non lasciare niente di statico sono un libero ricercatore un divulgatore non l'ho scelto ma mi è arrivato così informazioni di base dove sono nato puoi aprite le varie pagine alf il mio paese esperienze personali curriculum vitae curriculum teatrale anche la pagina su my movies lo storico degli spettacoli le due cose di successo le due cose intendo le due rappresentazioni veramente interessanti teatrali giulia è molto piacere di cui giulia l'abbiamo portato in giro come molto piacere su tutta la penisola ciò che ho scritto pensieri in libertà questi pensieri in libertà sono i primi post che ho fatto senza ancora sapere della nostra meravigliosa terra piana radio e piattaforme video come vedete qui sopra sono riassunte qui ok questo è praticamente la home dove arrivate anche alla radio ok poi abbiamo il preziosissimo indice alfabetico ovviamente l'indice alfabetico se scorrete un attimo vedete che vi appare sempre la barra sopra qui per passare alle voci velocemente avete le iniziali non so se vado alla p perché cerco potere arrivo semplicemente alla p poi ovviamente l'ho spiegato diverse volte per poter accedere non so se mi ricordo solo una parola del video ipoteticamente in questo momento mi viene in mente la parola vestibolare con la combinazione command f mi si apre una voce qui sopra cancelliamo avevo prima fatto una prova cancelliamo vestibolare per chi non ha il mac basta semplicemente control f f è find è chiaro che se io scrivo terra piatta mi risultano 194 risultati e ho la mia bella opzione di scorrerle tutte prima dicevo vestibolare vedete che mi ha aperto due perché c'è l'apparato vestibolare e l'apparato vestibolare gli astronauti non risentono uno è su brighton e uno è su youtube altre cose non so se clicchiamo luna anche qui avremo tantissimi risultati vedete però trovate anche luna dove non è in ordine alfabetico è importante perché uno si ricorda determinate cose e trova non solo la luna in ordine alfabetico e vedete tutte qui sul fianco è chiaro che se noi scordiamo e andiamo dove ne vediamo di più troveremo luna in ordine alfabetico non è che devo dirvi altre cose divertitevi semplicemente e usate il nuovo sito web www.tinelli.eu e non dimenticate che avete anche l'opportunità di poter usufruire sempre 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 e sempre buone ricerche se qualcuno vuole premiare questa cosa basta semplicemente cliccare su questo tasto qui c'è la leggenda delle icone insomma divertitevi gente fate buon uso ricordatevi sempre di arrivare all'indice alfabetico perché trovate decisamente i video che non vedete sicuramente su altre pagine ok buone cose a tutti e tutte